Che tipo di ricordo sto cercando esattamente nella mente di questa donna? La signorina Sheridan dirige il progetto Phoenix, la ristrutturazione totale di Neo Parigi. Io voglio scoprire i segreti della diga di Saint-Michel. La diga che domina il quartiere? Perché? Diciamo solo che credo nella libera circolazione di persone e merci. Ehm, ok. Quindi io devo andare di qui? Yes, sono arrivate le guardie. Ottimo. Ora. Qui c'è qualcosa da prendere. Chiuso. Chiuso. Oh, tipo un vetro fatto a triangolo, figata. Quindi niente. Devi andare di qui. Amma. Devo curare? No, non sembra. Accesso riservato. Cos'è? Piscina residenziale privata. Wow. Ok, quindi andiamo di qua. Sai che è quella? Opla. Finalmente sembra che siamo arrivati. Dopo tutta questa fatica. Sali. Ehm, ok. Ruba ricordi. Dov'ero? La diga? No, non la diga. Strano. Davvero strano. Questa tizia è partita come un Jedi che manca solo la spada laser, praticamente. Ma, dettaglio. Edge, la connessione si indebolisce. Stanno cercando di disturbare le nostre comunicazioni. Tentano portati più in alto. Presto. Il cerco è un canale libero. Ah, devo andare più in alto. Ok. Sarà fatto se ci riesco. Sarà fatto. Il diavolo sono questi cosi che volano? What? Oh, cavolo. Si muove molto questo cartello. Sembra che non si muova al centro, però. Eh, appunto. Ok. Vai! Corri, corri. No! Ops. Non è male che non sono morto. Ok, andiamo di qui. Sali sopra. E ci riproviamo. Non sono molto bravo nelle cose a tempo, ragazzi. Le cose cronometrate. Perdo la tempistica. Ok, forse devo farlo quando è così. Ok, ora vai. Vai, 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 vai. Salta! Oh, yes! Alleluia, era pure ora. Salta! Su, giù. Adesso andare su, perché sì. Tizzi metti da andare su. Sì, vado a andare su. Oh, nuove abilità disponibili. Posso sbloccare qualcosa. Fatemi vedere cosa. Posso sbloccare un'altra di quelle di potenziamento. E qui posso sbloccare. Ho capito. Fammi vedere cosa c'è qui, per favore. Non sembra niente di eccezionale. Tipo un calcio volante, praticamente. Vediamo un po' i calci che ho già equipaggiati. Allora, la combo che ho già equipaggiato adesso. Perché non so se è meglio di quello che già ho. Questo cos'è? Vedete. Vedete. Uh, questo sembra figo però, ragazzi. Sembra più veloce rispetto a quello che ho già equipaggiato prima. Quindi sbloccherò questo. E me lo metto come colpo al posto di quello. No, non posso. Vabbè, non ho. Però non l'equipaggio. Rimango come se l'ho messo ora. Per ora. Adesso. Cosa qui? No. Una statua in ristrutturation. Che non ci importa. Di là non posso andare. Quindi, ok, sali. Potremmo entrare qui? Yes! Cos'è? Ok, un'altra cosa dei collezionabili che non ci interessa poi molto. Vai di qui. Perfetto. Ora facciamo un bel saltino. What the... C'era qualcosa da prendere qui sotto, mi sembra se non sbaglio. Forse no. Solo questo per curarmi. Non ci interessa, dato che non ne ho bisogno. Ok, il prossimo oggetto nascosto è davanti a questa specie di turbine, diciamo, sotto, nella parte bassa. Missione completata. Ok, ottimo. Cosa? Yes! Cos'è? Focus bus. Ho trovato due su cinque. Dove sono le turbine? Ah, era proprio qui. Ok, perfetto. Non era molto complicato. Edge, sì, ci ricevo. Sono riuscito ad aggirare il malware di Kibb. Inviani i codici. Presto. Ok, li sto caricando. Bene. Non resta che introdursi nel mainframe della diga di San Michel. Oh my god. Voi erroristi non avete alcun podore. Oh, come sei bello. Il tizio di prima del cartello. Vai dentro. Siamo tutti questi anni ancora dal lato dei perdenti. Ci conosciamo? Tu eri una cacciatrice di ricordi eccezionale. Ragazza mia, forse la migliore. Hai broccato una strada diversa. E guarda che cosa sei oggi. Una criminale. Braccata. E con la testa come un colaproto. La politica è così fuori moda. Sputi sempre tanta saliva? O è solo quando sei in onda? Tu sei sempre stata una grandissima sbruffona. Mi divertirò proprio. È il momento... Sento puzza di boss, ragazzi. E non è Natale. Christmas show. Ok, primo boss della storia. Speriamo che non sia troppo complicato. Wow, wrestling proprio, col ring e tutto. Wow. Ottimo. Ok. Ti rompe però il deretano, tizio. Via. E poi faccio tutto il mio combo. Poi non gli faccio niente, sembra. Via. Oh cavolo. Non mi aspettavo mi caricassi in questo modo. Anche se sei data la stazza. Era abbastanza prevedibile. Non posso attivare la furia però. Vai, attiva la furia. Vediamo se pari anche questo. No, a questi non li pari, brutto bastardo, eh. Bastardone. Oh yeah. Ok. Ti sei guadagnato il diritto di assaggiare i martelli del kicker. Martelli. Spammer. 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 Sono il numero uno. Ce l'hai dici tu? Mangia la polvere. La mia combo è invincibile Oh, liscio Liscio Lento, troppo lento, mi spiace Combo perfetto e a manetta Oh, cavolo Però ho la furia, vai Beccati un paio di mazzate Oh, yes Sto massacrando, ragazzi Questa combo è devastante Bravissima, ragazzottina C'è arrivato alla fase finale dello spettacolo Chiudi la bocca e combatti Ottima proposta È l'ora della Marte improvviso Morte improvviso Questo suona male Un canzone di wrestling Ok Bombo Torniamo di bombo, infinezza da fare, quindi Viscio Oh, cavolo, cosa sono questi rossi? Oh, my God Ah, sono mine, ok Viscio 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 Sei un massacista L'abbiamo capito Viscio Furia Non lo stava per colpire L'ho proprio stoppato Oddio andò a furia Peccati questi, bastardore Aprendi un po' di mazzate Come si deve Viscio 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 Oh, cavolo No, le mine no Fermati Peccati questo E peccati questo Peccati questo Peccati questo Peccati questo Peccati questo E peccati questo La cosa strana è che mi dice Forza puoi farcela ogni tanto Quindi pare che Qua si voglia che io sconfigga E basta Peccati questo Peccati questo E peccati questo Attendo le combo è finita Oh, mi si è attivata la furia di nuovo Con questa combo, veramente Peccati questo Peccati questo Peccati questo Come hai fatto col primo il casero nella furia Bastardo E vai C'è la mossa finale Ottimo Eeeh Schiva Ottimo Eeeh Schiva Ottimo Eeeh Schiva Ah, mi ha preso Bastardo Non avevo capito che era il destro del mouse da premere Vabbè Pazienza Lo faccio fuori di nuovo Ho fatto con la combo che mi ricarica tutto Via Peccati questo Ah, scolta, mo Peccato Peccati questo Peccati questo Questo E questo Via 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 Aia Venca qua Venca qua Venca qua Ok, si è ricaricata la furia Vai che ti massacro Vieni qui, bastardone Ok, stavolta spero di non fallire Eeeh Schiva Ottimo Eeeh Schiva Ah, bastardo Maledetto Wow, è forte sto tizio Non è forte Che sono io che non sono capace a giocare i picchiature Un caso Vincito 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 Sì, ho capito Fatti colpire però E basta Su Come ricaricare Escio Escio Aia Maledetto Miene Escio Oh ca**o Non so Spendere la mina Vai Sì 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 Così Perché si è ricaricata la furia Questa volta non devo fallire Sì Ma ci sto qui fino a domani Ok Oh ma io lo premo il tasto Non lo fa però Perché Fatemi capire Non schiva Ehm Ah ma Ahia La mina Non sono giusta Però dai Che pazzo Non è giusta Se posso Posare le mine E questo col corpo a corpo Limit anche le mine Ehm 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 C'è capito Non mi colpire I miei missili Però Sennò mi fai fuori Ehm Non voglio morire Ehm 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 Che stile C'è Ehm 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 Furia Mi sono ricaricato abbastanza Vieni qui bastardo Muori Ok scusate ragazzi Questa volta non parlerò Mi concentrerò Per non sbagliare No Non cassa sbagliato Ecco perché Christmas Non c'era Ahahah 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 Ah Ah Ok Furia ricaricata E ora muori Bastardo Per favore Per favore Muori Oh yes Addio Bastardo È ancora vivo Purtroppo Tutti questi anni Ancora dal lato Dei perdenti No Non qui Non davanti E gli hai fan Invece si Addio Aspetta Parliamone Io posso darti Fuori Oh yes Oh yes Oh Ora il suo potere Che figata Interessante E' stato tosto però Che mi ha inviato La controffensiva Errorista Avrà inizio tra pochi minuti Sfrutta la confusione Per uscire E raggiungere Lo slam 404 Inventato da Kid Xmas Lo spammer Spara esplosioni Evitati Che estordiscono E danneggiano Il sensen Degli avversari Spara a volontà Ma attieni d'occhio L'indicatore Di surriscaldamento Ok Uso lo spammer Per disattivare Il dispositivo Di realtà aumentata Credo Maiusk sinistra Eh Lo sto premendo No Z Ah ok Ah z per mirare Perfetto Sono altri 10 c'è un altro 10 c'è un altro Basta Yes Ok Ciao tizio Addio E' stato un piacere Spaccarti la faccia Ok Ora dobbiamo andare Porta d'emergenza Andiamo di qui Posso usarla Ah devo attivarla con questo Yes Il mio nome è Nelly Questa volta Ve ne ricorderete Badass Vai Alle 10.47 di questa mattina Sirene in tutta la città Hanno annunciato L'improvvisa apertura Della diga di Saint Michel Che ha fatto riversare Miliardi di litri d'acqua Dal bacino artificiale Di Saint Louis Nel tranquillo quartiere Di Saint Michel Inondandolo Come potete vedere Da queste immagini Sansen L'onda gigantesca Ha inghiottito Ogni cosa Attualmente La vera entità Di questa catastrofe È difficile da valutare Le autorità Di Neoparigi Riportano già Decine di morti E numerose centinaia Di dispersi Dall'altra parte Della diga Il repentino Abbassamento Delle acque Ha avuto conseguenze Per gli abitanti Dello slam 404 Un quartiere caratterizzato Da un continuo Fermento sociale L'immediato schieramento Della forza sabre All'interno E all'esterno Della zona È volto a contenere Possibili sommosse In effetti Lo svuotamento Del bacino Di Saint Louis Ha messo fine All'isolamento Della fortezza Della Bastiglia Dimora Dei più pericolosi Criminali Di Neoparigi Rimanete sintonizzati Per ulteriori notizie Platini Bel notiziario Se chiudi la porta A tutti gli errori La verità Sarà taciuta Tizio Dal nome impronunciabile In sottofondo La parte bassa Dello schermo Con i codici Che avevo sottratto All'architetto È già sabotato La diga di San Michele E allagato la confortezza A parer suo Era la giusta punizione Per coloro Che pensano Solo alla propria comodità Perché ho fatto Ciò che mi ha chiesto Avrei potuto Lasciare la città Inventarmi Una nuova vita Altrove Ma volevo tornare Ad essere Il nemico pubblico Numero uno Che sia parte Della mia natura Abbiamo davvero Fatto giustizia Per gli esclusi Dello slam 404 O Le mie azioni Li hanno condannati A ulteriori sofferenze Solo un vero militante Crede che il fine Giustifica sempre i mezzi Edge mi ha rivelato Che dalla mia condanna La mia memoria È custodita Nella fortezza Della bastiglia Devo andarvi Per riavere La mia vera identità L'unico modo Per entrare Nella bastiglia È con i ricordi Di Johnny Green Teat Un pittoresco Residente Dello slam 404 Il problema È che nessuno Sa chi egli sia O dove si nasconda Episodio 3 Quindi dobbiamo andare A cercare questo tizio A quanto pare Alta tensione Uscita profonda Mi fa pensare Molto molto male Questo titolo Ma facciamo finta Signate Colline dello slam 404 13 e 36 Ogni spostamento È proibito Fino al nuovo ordine Libertà per tutto Ok Nelina Tommy può aiutarti A infiltrarti Nella bastiglia Torna al suo bar Ma non poteva farlo Stamattina Quando ero lì No Prima abbiamo dovuto Svuotare i livelli Inferiori dello slam 404 Hai tutto programmato Eh Dobbiamo rientrare A trovare Quel bellissimo uomo Di Di qualche ora fa Diciamo Non si affettano Rimborsi Né cambi Punto Ok Beats and fish Tanto buono Quanto fresco Ok Carrozzeria Verniciatura Ok Di qua C'è questo Di qua Cosa c'era Ah Praticamente vado sempre Allo stesso punto Ah A vendere ci sono Solo i robot In pratica Sono un'altra robot Prostituta A quanto pare Ma come funziona Non ne ho idea Comunque Non mi importa Se sono dei robot Cioè Sono prostitute Per altri robot Fatemi capire Come Come Futurama Bah Vabbè Ok Deve essere nascosto lì Non credo sia qui Sarà un po' più avanti Avviso Settore di inquarentena Ai sensi del decreto Governativo Bah bah Ok Qui Oh Qui forse Oh Oh Eccolo quel punto C'era 8 SAT 3 su 5 Ok Ok Qui Sembra non esserci nulla Almeno Quanto vedo Non vedo nulla Qui Usa lo spammer Ah ok Ok Non l'avevo visto Quello effetto lì What Cos'è un morto? Gli scaramex Sono parassiti Che si nutrono Di trasferimenti Di memorie ambientali What? Ascolta il loro suono Distinto Distintivo Per localizzarli E spararli con lo spammer Per ottenere un bonus Di ppppp Ok Ok Le cose si sono messe male Ah mi devo avvicinare Perfetto Mi sono un bel po' di cadaveri Qui Casaccio proprio Vabbè Mentre le squadre di soccorso Annaspano nella scia Dell'inondazione di Saint Michel L'enigmatico capo degli erroristi Noto come Age Rivendica questo strabiliante Atto di sabotaggio Il fallito tentativo Il robot delle offerte Carazzeria e verniciatura Chiuso per decreto governativo Sembra confermare L'affermazione del leader Degli erroristi Tutto chiuso What? Guardiamo Lo sta succedendo Oggetto nascosto Lì Ok Andiamo alla ricerca Degli oggetti nascosti anche Sono questi Ah sono i liper Ok Il laboratorio Combo Disponibile Una nuova combo Wow Perfetto Quindi questo è Pugno Inizia con il pugno Ok Facciamo Le posso spostare Quelle già utilizzate Nella combo nuova Mi sa di no vero O forse si Questo è il Pugno Diciamo di Di base Ok Questa è quella che fa Così il colpo Alla Karate Kid Poi abbiamo Questo Che fa il colpo potente E abbiamo E abbiamo Questo che fa la specie di presa E il fatto è che non dice Quanti danni Fanno le Le mosse singole Diciamo Penso che Più o meno fanno uguale Un po' tutte Posso sbloccare Un nuovo pressen Qui di cura Non ci resta nessun Nessun tasso Ok Dunque Mettiamo 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 Mettilo qui Ok Quindi Fa Pugno Calcio Poi mettiamo Un altro Con il pugno Questo Poi abbiamo Mettiamoci La mossa Alla Karate Kid Ok Quindi Pugno Calcio Calcio Pugno Calcio Calcio Non è complicata Come credevo Pugno Calcio Calcio Pugno Calcio Calcio Via Spiva Fatemi passare Fatemi passare Fatemi passare What up What up What up Mogiano prima Dal fine della combo Comunque Che avevo qualcosa da raccogliere Se non la fate raccogliere C'è rotto Stato Quattro Oh me ne manca solo uno ragazzi Ottimo Perfetto Pericolo 963 gradi Centrici C'è anche Quanti gradi Sta Scaldando il fuoco Ok Ottimo C'è qualcosa qui Sembra Proprio di no Quindi Andiamo avanti Amici No Vai robot Sensori ottici Guasti Ok qui dentro Non c'è niente Come faccio A passare lì Mi sembra Che c'è una cosa Da colpire Ok Ottimo Posso Posso passare qui Ok Dittime che ci sono altri Ditti da combattere Voglio sperimentare la combo Niente 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 Che c'è un'altra robot Che c'è un'altra robot Prostituta Vieni 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 Che Tradui la tristezza Oh Che c'è un'altra robot Che c'è un'altra robot